è gratis si può consultare ovunque grazie internet ed è sterminata un'enorme biblioteca che sta tutta in un click ci sono tanti libri in formato digitale da sfogliare online o da scaricare su pc e tablet e ancora film musica audiobook banche dati corsi a distanza e giornali e media library online il primo network italiano di biblioteche digitali pubbliche la toscana all'avanguardia il progetto sperimentale è partito alla fine del 2011 ed è disponibile per gli utenti delle reti documentari toscane circa 260 biblioteche un'opportunità straordinaria per tutti gli iscritti appunto alle biblioteche pertanto abbiamo deciso di aderire da una parte appunto per implementare questa rete che da un grande servizio ai cittadini e dall'altra proprio perché la regione toscana ha nel suo nel suo contesto tante biblioteche tanta attenzione nei confronti del sistema delle biblioteche in generale per capire come mettere piede in questa biblioteca virtuale siamo entrati in una biblioteca reale una tra le più conosciute a firenze le oblate necessario essere iscritti in una biblioteca della regione toscana tutte le reti della regione sono aderiscono a questa piattaforma ed è indispensabile avere un indirizzo email valido con l'iscrizione in biblioteca si ricevono sull'indirizzo riposta le credenziali da cui è possibile accedere alla piattaforma a media library online hanno aderito quasi 3000 biblioteche pubbliche di tutta italia e i toscani usano sempre di più questa risorsa per leggere libri ascoltare musica o vedere film gli iscritti a media library online sono 12.150 circa gli iscritti al invece a quello che riguarda le 12 reti documentarie nostre sono circa 314 mila ma ovviamente il bacino possibile è immenso perché riguarda tutto il territorio toscano quindi margini di implementazione sono tanti però ecco la risposta è stata davvero interessante sia in termini di numeri sia in termini di utilizzo e di fruizione agli utenti piacciono soprattutto gli ebook in download e giornali da sfogliare online in modo gratuito ci sono oltre 2000 attestate di tutto il mondo dai grandi periodici internazionali ai quotidiani locali tanto per vedere come funziona questa qui è la nazione dell'edizione di firenze cliccando su sfoglia è possibile accedere all'edizione del giorno della nazione e qui è possibile fare anche una serie di operazioni su tutte le testate tipo vedere gli arretrati per esempio oppure ingrandire il testo il materiale informativo per conoscere meglio media library online è disponibile anche nelle bibliocop oltre 20 punti per il presito dei libri nei centri commerciali unicop firenze mentre a siena la sezione soci ha messo a disposizione due lettori di ebook intanto in arrivo un nuovo catalogo con informazioni e giornate sulla rete sui servizi attivi in ogni punto bibliocop un modo per promuovere la lettura e per portare i libri in luoghi inaspettati comunque per noi è fondamentale perché il principio con il quale ci siamo mossi sin dall'inizio nell'ambito della legislatura è quello di fare in modo che la cultura andasse verso i cittadini insomma e non solo viceversa pertanto popolare luoghi normalmente deputati ad altro come possono essere appunto i luoghi dove normalmente si fa la spesa e si compra e si compra quello che occorre per la quotidianità ecco metterci lì una biblioteca la presentazione di libri la possibilità di rimanere anche inizialmente un po stupiti poi attratti e incuriositi dal libro è una dinamica fondamentale proprio per avvicinare i lettori ma anche le persone che normalmente sono purtroppo come tante in italia fra quelli che leggono pochi libri all'anno perché abbiamo una drammatica statistica a questo riguardo diventa un presidio fondamentale